Una sezione basket in continua crescita alla PGS Auxilium, Genova, Giuseppe Fusco, la parola d'ordine è coinvolgimento? Sì, sicuramente coinvolgimento e integrazione all'interno del territorio del quartiere di Marassi, che comunque conta parecchie anime, chiaramente in competizione già sfavorevole con il calcio e quindi con le scuole calcio che pullono nella zona. Però noi abbiamo la nostra nicchia, tra mini basket e basket abbiamo superato le 200 unità tra bambini e bambine, diciamo sia con il settore maschile che con il settore femminile e di questo siamo contenti perché abbiamo una grossa spinta, soprattutto nel settore mini basket con grandi crescite nei numeri. Quante squadre? Nel settore mini basket quest'anno abbiamo partecipato con 5 squadre ai trofei mini basket, di cui una squadra ha fatto un doppio campionato e proprio domenica, come sai, avremo questa iniziativa riservata ai bimbi del 2010 che iniziano il percorso agonistico, tra virgolette. Nel settore invece giovanile, sia maschile che femminile, abbiamo già 8 squadre iscritte, 2 nel settore femminile, l'Under 14 femminile targata in Ebbia Zena e l'Under 18 femminile come PGS Auxilium, tra cui d'altra parte questa squadra fa praticamente anche il campionato di Serie C femminile. Per il settore maschile abbiamo iscritte 5 squadre, dall'Under 13 all'Under 18, che è la nostra punta di diamante, dove all'interno di questo roster ci sono anche molti ragazzi che giocano stabilmente in prima squadra in Serie D. Gli eventi, un capitolo importante a dicembre, un riuscitissimo trofeo dell'Immacolata per il futuro? Sì, diciamo che è stato il primo approccio, è riuscitissimo, abbiamo avuto l'onore di ospitare due società blasonate, Varese e Trieste. Nel futuro prossimo abbiamo in cantiere la partecipazione con le nostre squadre a varie manifestazioni sparse per l'Italia. La squadra esordienti andrà a D'Averio per il torneo internazionale, la squadra Aquilotti Junior del 2008 andrà a Bergamo e a fine giugno la squadra Aquilotti Senior andrà al torneo internazionale di Matera, dove ci sono 64 squadre iscritte, tra cui partecipazioni dalla Sud America, Israele e così via.